Il podoiatra a livello internazionale è un medico specializzato che si occupa della diagnosi del trattamento delle malattie del piede. In Italia la stessa figura si chiama podologo. Il perché? Lo chiediamo subito al nostro ospite, il dottor Luca Avagnina. Grazie per essere intervenuto, dottore. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Lei è podologo sicuramente, ma anche podoiatra. Che vantaggi ne trae? Dunque, in teoria è solo una questione etimologica. Il podoiatra deriva dalla parola americana podiatric, che vuol dire medico specialista del piede. Mentre nei paesi anglosassoli viene usato più il termine podologo. In effetti anche l'enciclopedia Wikipedia dice che sono sinonimi, dal punto di vista questo filosofico teorico. Dal punto di vista pratico invece c'è una bella differenza, perché in Italia la figura del podoiatra che io sono ancora non esiste, la mia laurea è quindi estera e vale in alcuni paesi della comunità europea, come la Spagna, l'Inghilterra, il Portogallo, gli Stati Uniti e ovviamente il Canada e altri paesi internazionali. Ma in Italia stiamo lottando per ottenerla finalmente anche qui. Esiste attualmente solo la laurea in podologia, che è una laurea triennale, a differenza di quella di podiatria, che è una laurea quinquennale, come il nostro odontoiatra, ormai riconosciuto da anni in Italia. Infatti c'è un disegno di legge presentato dalla senatrice Garavaglia alcuni anni fa per far entrare negli atenei italiani la podiatria. Ma è rimasto nel cassetto oppure c'è qualcosa in itinere? Allora, diciamo che ci sono forse qualche interesse che impedisce a questa figura di emergere anche in Italia. Perché questa proposta dell'onorevole Garavaglia è del 2002. Nel 2009 altri onorevoli hanno fatto una seconda proposta di legge perché la prima non era riuscita a finire il suo iter e anche questa non è stata portata a termine. E nel 2015 l'onorevole Mandelli ha di nuovo riproposto la figura di podiatria, quindi stanno passando 15 anni cercando di fare una cosa che negli altri paesi esiste già da 50-60 anni. Lei però vanta un'altra specializzazione che è la podologia sportiva, un ruolo che le consente di seguire un atleta prima, durante e dopo le gare. Sì, questa è una specialità del podologo o del podiatra. Dopo la laurea in podologia o in podiatria si fa questo ulteriore percorso di tre anni per ottenere questo master o questa laurea che ti permette di lavorare specificamente in ambito sportivo perché in effetti il ruolo del piede nello sport non è lo stesso di quello della vita di tutti i giorni dove sì, lo usiamo per stare in piedi e per camminare, mentre nel gesto atletico c'è una complessità di movimento e delle forze applicate che sono enormemente superiori, che richiedono una conoscenza del singolo sport per capire come si propone il piede in quel gesto. Le patologie specifiche di ogni singolo sport, cioè il tennista ha delle patologie che non ha il calciatore, che non ha il nuotatore, faccio un esempio, che non appoggia il piede, ma che ognuno di loro con questo percorso impari a conoscere le loro attività peculiare e a trovare le soluzioni per fare in modo che possano fare sia lo sport senza problemi ma soprattutto ottenere i massimi risultati. Come dire, che ogni atleta quindi ha necessità di avere un piede buono? Sì, in teoria lo sport non è un'attività normale, quindi il consiglio è che ogni atleta dovrebbe fare a una visita podoiatrica fatta bene per capire la sua biomeccanica, la sua postura, com'è, e poi utilizzare delle terapie ortesiche plantari di prevenzione e ottimizzazione del gesto sportivo per evitare di incorrere nelle famose tendiniti o altre patologie classiche degli sport. Ecco, hai parlato di tendiniti, quali sono i punti deboli del piede di un atleta? Ma normalmente il tendine d'Achille, che fa parte del complesso piede-caviglia, è fondamentale. Il tendine d'Achille è sottoposto a delle sollecitazioni enormi perché è la molla che spinge il piede durante la corsa, durante qualunque gesto. Però anche le altre strutture possono subire lesioni o comunque deterioramenti legati all'uso, all'overuse si dice nella medicina dello sport, ad esempio la fascia plantare, quindi molti che soffrono di problemi al calcagno che continuano ad avere dolore o alla fascia plantare senza trovare una soluzione. Quindi fascia plantare e sistema Achilleo sono i due principali organi bersaglio nel piede dello sport. Parliamo dell'Italia. All'interno di un team sportivo c'è la sua figura? È rappresentato oppure è ancora da venire? Allora, anche qui stiamo lavorando, lavoro in corso, working in progress, nel senso che io ho avuto la fortuna in questi 20 anni di carriera nell'ambito dello sport di lavorare con molte società di serie A professionistiche, la Lazio, il Genoa, il Sassuolo, la Sampdoria, il Catania quando è stato, il Messina quando è stato in serie A anche, e in squadre minori. Stanno cominciando, visto che abbiamo attivato un master di progetto sport anche in Italia, a Roma, all'Università, al Polichinico Gemelli, all'Università Cattolica, a entrare questi allievi che hanno fatto questo percorso nelle varie squadre di serie A e ne abbiamo adesso nel Palermo, nella Roma, nel Milan. Quindi in serie A e in serie B ci sono i podologi ormai nello sport. E nel calcio? E nell'atletica per esempio? Nell'atletica molto meno perché ogni federazione in Italia è molto a sé, quindi è più difficile entrarci. Noi siamo entrati molto nel mondo del calcio, nel mondo del tennis, del volley, ecco, del basket. Tra l'altro sport con altissima sollecitazione, altissimo overuse meccanico del piede e delle strutture legate al piede. Teniamo conto che quando parliamo di sportivo è vero che vengono noi soprattutto per dolori ai piedi o alla caviglia o al tendine d'Achille. Ma molte volte adesso si comincia a creare la mentalità che i dolori che stanno sopra, come al ginocchio, quindi tendiniti rotule, oppure addirittura alla schiena, lombalgie, pubalgie, possono avere una relazione stretta con un difetto di funzionamento del piede per cui il medico dello sport comincia a dire, beh, andiamo a vedere innanzitutto se il piede può essere responsabile, attore o partecipe di questo processo patologico di cui non troviamo lesioni. E questo normalmente accade quando fanno un sacco di fisioterapia di tutti i tipi, tecar, laser e via dicendo, manuale, e il problema o non va via o si ripercuote continuamente, si ripete continuamente. Allora viene il dubbio che la causa non venga identificata, si stia trattando solo il sintomo, l'infiammazione, il dolore, ma non si è capiti perché è avvenuto. Ovviamente questo discorso esclude tutte le patologie traumatiche, dove l'imprevedibilità dell'incidente non è evidente, ma quando parliamo di danni funzionali il piede è ancora uno sconosciuto, anche in medicina dello sport e solo i medici che hanno avuto la fortuna di avere al fianco un po' degli altri dello sport hanno visto il risultato pratico di questi tipi di intervento e hanno capito che la riabilitazione è utilissima, ma non è sufficiente in molti casi se l'appoggio è squilibrato e ripete in continuazione il problema. Abbandoniamo lo sport e l'atletica e il calcio in particolare, lei non si limita a curare gli atleti ma anche la gente comune, tra le patologie più comuni di sticcio cosa possiamo citare? La luce valgo per esempio? Nelle donne è un dramma, la luce valgo è un problema che coinvolge diverse sfere perché la donna lo vive, ha dal punto di vista estetico male perché molte si vergognano al mare o comunque a tenere i piedi allo scoperto, poi diventa un problema funzionale perché non possono mettere le calzature che vogliono, quindi specialmente calzature, decolletè, ballerine, tacchi, punta cominciano a creare gli problemi fino al punto di essere impossibilitate ad utilizzarle e poi diventa addirittura, se l'ulteriore stadio avanza della patologia, una patologia invalidante per cui a volte hanno male anche a riposo, si creano borsiti, non riescono a mettere neanche scarpe larghe, quindi diventa un problema che va avanti, non si interrompe. Ed è una patologia interessante perché oggi abbiamo come podoiatri una pletora di possibilità terapeutiche che vanno dalle quelle non chirurgiche a quelle chirurgiche. Quelle non chirurgiche prevedono sempre uno studio attento del perché si è formato la luce valgo, cioè è ereditario, è dovuto alle scarpe sbagliate come tutti pensano o invece è dovuto al modo di camminare sbagliato. Se c'è questo di nuovo difetto di camminata o di appoggio o di postura, se non lo correggiamo neanche con la chirurgia risolviamo le cause, ma stiamo di nuovo agendo solo sugli effetti, sui sintomi. Mentre in ambito chirurgico, oggi con la chirurgia mininvasiva che viene ancora pochissimo fatta in Italia, mentre la podoiatria americana ha scoperto questa tecnica, un po' come l'artroscopia del ginocchio, fino a 30 anni fa tutti aprivano il ginocchio per qualunque cosa, oggi chi apre il ginocchio viene visto come un UFO. Noi siamo in questa fase nel piede, cioè tutti ancora aprono il piede e pochissimi stanno adottando queste tecniche non artroscopiche ma mininvasive con l'aiuto di una fluoroscopia per fare un alluce valgo con tre buchini da 3 mm, senza più mettere viti, ferri e tutte queste cose complesse che richiedevano invalidità e che molte volte portavano a rigidità dell'articolazione o altre problemi, o recidiva della luce valgo stessa. Quindi per tranquillizzare chi ci ascolta, la luce valgo si cura e si guarisce con tre piccole punture, come dice lei? Più che punture sono buchini, poi il chirurgo in questi buchini riesce a creare o delle levigazioni delle parti esuberanti dell'osso, oppure delle piccole tagli di questo osso per riposizionarlo nel posto giusto in maniera delicata che uno possa ricamminare, finito l'intervento la persona scende dal letto e cammina. Quindi allora si può rimettere il tacco 12 tranquillamente? Non il giorno stesso dell'intervento, dopo un po' di mesi. Anche le dita del piede si possono deformare così? Sì. Perché succede? Allora, le dita del piede possono deformarsi in vari modi, possono diventare a martello come si dice, possono diventare a collo di cigno, cioè possono assumere varie forme di deformazione. Queste forme possono essere flessibili o semirigide o rigide. Nei casi flessibili è facile cercare di ripristinare la loro funzione e la loro posizione attraverso una corretta rieducazione con degli apparati che si chiamano ortoplastie, che sono delle piccole protesine fatte su misura sulle dita per riallinearle mentre tu cammini e riequilibrarle. Anche qui, se abbiamo grossi difetti di camminata, come grossi piedi piatti o iperpronazione dei piedi o ipersupinazioni, se non correggi questo, le dita prenderanno con gli anni e con i mesi una posizione che li porterà ad essere a martello o deformate. E quindi, quando diventano semirigide, perché per troppo tempo stanno in questa posizione o addirittura rigide, a quel punto poi diventa un discorso di nuovo chirurgico, sempre utilizzando quelle tecniche mini-invasive che oggi, in un attimo, con pochi minuti e con buchetti piccolissimi di un punto al massimo, riesci a rimettere il dito nella posizione giusta. Quindi la microchirurgia oggi vi dà una grossissima mano? Sì, enorme, dà veramente una grossa mano perché ha rivoluzionato la chirurgia dal piede. E l'unghia che ruolo gioca? L'unghia sembra una cosa piccola in un contesto di piede, ma quella incarnita è una delle cose più dolorose che esistono. Io amo citare durante la guerra che uno dei sistemi peggiori di tortura era lo strappo delle unghie. Dicono che sia superiore alle doglie di un parto. Ci da crederci. Quindi l'unghia incarnita, pur essendo una cosa così piccola, dà un dolore terribile. Anche qui il sistema oggi unico, direi, perché esistono sistemi incruenti, tipo quelli odontoiatrici per correggere la forma dell'unghia con barrette, ma sono molto lunghi, faticose e dispensiosi. Oggi con un intervento di 5 minuti in chirurgia, in anestesia locale, togli quella fetta di unghia che si incarna sempre dentro, si brucia con una tecnica che si chiama di fenolizzazione che negli Stati Uniti è fatta da 70 anni e qui non la fa quasi nessuno perché non viene insegnata nelle università e c'è una definitiva al 98% risoluzione del problema dell'unghia per tutta la vita. Parliamo di patologie più gravi, come per esempio il piede diabetico, una bruttissima bestia questa. Ecco, qui è una patologia del piede che ha un interesse sistemico e il podologo podiatra non può da solo affrontarlo, nel senso che deve far parte di un'equipe multidisciplinare in cui il diabetologo gioca un ruolo fondamentale, ma non solo, il dietologo, il vascolare, ci sono varie figure che devono intervenire. Il ruolo del podologo in questo team è quello di, se siamo nella fase di non ulcera, di prevenire la probabilità di ulcera, perché uno dei problemi del piede diabetico è che avendo una neuropatia, cioè un deficit della sensibilità nervosa del piede, il paziente non si rende conto che si sta bucando, che si sta facendo del male, è un po' un muzio scevola della situazione, quindi può mettere il piede nel fuoco e per assurdo non sente niente, lo puoi operare senza anestesia, perché lui è già anestetizzato, ma questo non è un bene, ma è un male, è un rischio enorme. Per cui questa neuropatia associato a problemi circolatori vascolari, questo cocktail micidiale di due cose, porta il piede del diabetico a grossissimo rischio ulcerativo e di qui infettivo e da infettivo amputativo, quindi veramente molto grave. È uno dei drammi più importanti della società moderna, perché il diabete è legato alla società opulenta in cui viviamo, in cui c'è troppo, si mangia troppo, si abusa e poi il danno viene dal punto di vista della maggior parte diabetologico. Il poliatra nel prevenire le ulcere o nel curarle attraverso scarpe e plantari speciali per il diabetico con l'aiuto delle altre terapie, se c'è un problema vascolare deve essere rivascolarizzato, se c'è un problema metabolico deve essere farmacologicamente controllato, glucosio e gli altri parametri. Dal diabetologo si riesce a ottenere degli ottimi risultati se si prende in tempo. Il piede aromatico è invece meno grave oppure ha la sua gravità? Questa è un'altra delle grandi patologie del sistema sanitario nazionale, perché le artriti stanno colpendo centinaia di migliaia di persone ed è un processo ineluttabile, cioè l'artrite una volta che comincia, specialmente l'artrite psoriasica, reumatica eccetera, deforma piano piano le singole articolazioni. Il piede deforma le mani ad esempio e diventa un problema anche prendere un oggetto, ma nel piede il problema è ancora più grave perché c'è tutto il peso del corpo che su queste articolazioni che cominciano a perdere la loro capacità elastica, la loro capacità strutturale, cedono e sprofondano fino ad arrivare a patologie gravi come il piede di Charcot o altre situazioni e quindi anche qui la prevenzione e il cercare di aiutare a puntellare questo piede attraverso una terapia moderna ortetica plantare, calzature adeguate, larghe, di forme adeguate, aiuta a rimandare di molto le conseguenze di questa patologia. Lei si è portata presso un po' i ferri del mestiere, sto vedendo. Qual è quindi l'importanza dei plantari su misura e le scarpe su misura? Ecco, bisogna stare attenti perché nel mondo dei plantari oggi c'è un business che è un business commerciale puramente, per cui molti pensano di aver fatto un plantare che non ha avuto successo, ma in effetti non hanno che ricevuto da un negozio o da qualcuno che non è preparato una soletta standard comprata e adattata al massimo al suo piede. Quando parliamo di terapia ortetica plantare ci riferiamo a una terapia fatta esclusivamente su misura, su prescrizione podoiatrica in base a una visita, altrimenti non può esistere che si faccia un plantare se non c'è una visita. E vorrei mettere in guardia gli ascoltatori della vostra emittente contro coloro che fanno passare per visita tutti degli esami con computer, pedane, come se queste sopperissero la capacità medico-clinica che deve avere un podoiatra per capire dove è veramente il problema e come agire. Quindi molti oggi usano questi stratagemmi di grande scenografia ma con poca sostanza. Infatti non c'è una diagnosi, non c'è un referto, tanti fogli scritti e stampati, ma niente di più. Oggi per creare una terapia ortetica su misura non si può passare se non da un calco del piede, è un po' come andare da un dentista e immaginare che ci faccia un ponte, una corona senza prendere l'impronta della bocca. Non esiste, come fa a farla? Se la deve inventare, non andrà mai bene. Quindi nel piede bisogna fare l'impronta del piede che è un calco e su questo calco costruire poi a caldo con dei materiali speciali la giusta correzione per fare in modo che questo piede lavori bene. Questa è una terapia che può essere evolutiva perché si possono fare delle cose molto semplici con elementi fondamentali biomeccanici, si possono fare cose più complesse a seconda dell'attività che fai e delle patologie che hai e modificarle nel tempo come si fa con la terapia farmacologica aggiungendo o diminuendo le dosi, i principi attivi e tutto quello che serve. È purtroppo una terapia anche questa sconosciuta in Italia perché non insegnata all'università né agli ortopedici, nella specialità dell'europedia, né ai podologi molte volte perché è carente di questa cosa qua. Quindi bisogna sempre rivolgersi all'estero, Stati Uniti, Francia, Spagna per andare a prendere queste chicche di esperienza maturate in decenni di lavoro e che permette di ottenere dei risultati fantastici prima di dover passare eventualmente alla chirurgia. Quindi concludendo vuol dire che se si va a comprare in qualsiasi negozio una qualsiasi soletta non solo non risolve il problema ma lo può addirittura aggravare? Sì, questo potrebbe accadere. C'è da dire che i problemi possono essere piccoli, medi, grandi, grandissimi. Sui grandissimi e sui grandi non c'è discussione, non bisogna mai andare in un negozio, mai prendere una cosa già fatta o comunque accertarsi che venga prima fatta una visita. Se non c'è una visita, una prescrizione uno deve stare attento e soprattutto se uno vede due plantari o due cosiddetti plantari uguali, destra e sinistra che magari ha due piedi completamente diversi c'è qualcosa che non va sotto. Nei problemi piccoli, a volte piccoli accorgimenti, una solettina al silicone o un piccolo coso possono anche aiutare in quel momento a superare. Però su misura sono quelle che lei consiglia diciamo. Non c'è paragone. Concludendo e brevemente, perché io dovevo andare dal podologo nella mia vita una volta o più di due? Beh, allora, se uno sta bene vale la pena di fare una visita per sapere come è fatto, come funziona e se potrebbe andare incontro a qualche problema. Quindi già dai 3, 4, 5 anni i genitori potrebbero portare, come portano da varie figure specialistiche, oltre che il pediatra, il loro bambino, anche dal podologo a fare un controllo. Ma anche se non è stato fatto da piccoli e si è adulti, in genere nell'arco della vita le statistiche dicono che il 90% della popolazione avrà un problema al piede, che sia un piccolo calletto, che sia un'unghia incarnita, che sia una patologia tendinea, articolare, plantare, qualche cosa c'è. E quindi prima che arrivi, io so sempre meglio che si dice prevenzione, ma la vera prevenzione è solo una visita. Uno fa una visita, sa come è fatto, non ha niente, bene può andare. Sa che ha delle predisposizioni, decide se agire per correggerle e quindi può prevenire eventuali patologie molto più gravi. Come tutte queste visite, diciamo, vanno fatte in tenera età, se non in tenera età, in giovane età, perché poi il piede può assumere anche posizioni che, ahimè, potrebbero anche essere riconducibili a mali peggiori, no? Assolutamente. Voglio ancora ribadire, se mi dà l'opportunità, che queste ripercussioni dal piede in età adolescenziale, ma anche proprio infantile, possono ripercutere sulla schiena. Quante scogliosi cosiddette idiopatiche nessuno gli ha mai guardato i piedi per vedere se hanno dei piedi uno diverso dall'altro, se hanno una gamba più lunga dell'altra. E poi dice, ah, c'è la scogliosi, non sappiamo perché. Esistono delle scogliosi idiopatiche, di cui non sappiamo l'origine, ereditaria, genetica, ma ne esistono tantissime che io definisco biomeccaniche posturali, perché nessuno ha mai controllato al momento giusto, neanche con una visita ortopedica magari, perché l'ortopedico non ha preso in considerazione l'intera persona, ma solamente un distretto, guardi la schiena, la schiena è così, dici, ha la scogliosi. Bene, abbiamo la diagnosi, ma perché alla scogliosi? La domanda che deve farsi il clinico e il genitore o la persona adulta? E vedere se si può trovare la soluzione anche nelle ricerche di cause che vanno al di fuori della schiena, insomma. Bene, come abbiamo capito il nostro spesso bistrattato piede può crearci non pochi problemi, meglio quindi avere un po' più di cura nei suoi confronti, anche grazie ai consigli del dottor Avagnia che noi ringraziamo per essere intervenuto e ringraziamo voi per averci seguito. Arrivederci.